Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Eccoci qua nell'ultima puntata dedicata a Uteam Pro, al Builder, in cui andremo a vedere più nel dettaglio tutte le parti che riguardano lo stile, il layout, la gestione del template in sé da parte di Joomla. E visto che si tratta di tanti piccoli argomenti a spot, lo tratteremo come un insieme di pillole, quindi per fare questo si fa così, per fare quest'altro si fa così, eccetera eccetera. Quindi andremo a vedere punto a punto tanti piccoli dettagli che possono esservi utili nella gestione di un template Uteam Pro all'interno del vostro Joomla. Quindi buona visione! Eccoci qua nel pannello di controllo. Allora, la prima cosa che voglio andare a vedere riguarda lo stile. Quindi clicchiamo su Uteam a sinistra e apriamo le impostazioni di Uteam Builder. Nella colonna di sinistra che ci comparirà ci sarà proprio il pulsante Stile, è il secondo, subito sotto Layout. Che cosa si può fare qua dentro? Qui si può andare a modificare tutto quello che riguarda i CSS del sito, o meglio di SCSS. Che cosa significa? Fondamentalmente ci permette di gestire i CSS quasi come se fossero un linguaggio di programmazione, quindi con delle variabili per esempio, o delle costanti. In questo modo qua noi possiamo per esempio definire dei colori che saranno in una costante e andarli a richiamare per esempio con il colore del testo, deve essere il colore primario. Questo colore primario noi lo definiamo una volta sola e ogni volta che noi nel CSS troviamo scritto colore primario, beh allora il sistema andrà a prendere proprio quel colore che noi abbiamo settato. Questo ci permette appunto di velocizzare di molto la scrittura e la gestione dei CSS e quindi anche di fare modifiche, nel senso che le modifiche poi alla fine vanno fatte una volta sola. Diciamo che in realtà poi a livello di Uteam non dobbiamo andare a scrivere del codice, cioè noi non lo vedremo questo CSS, non lo compileremo noi questo CSS tutte le volte. C'è appunto questo pannello stile che vedete nel vostro pannello di controllo, dove ci sarà questa colonna e all'interno di questa colonna ci saranno varie righe che sono tutte le sezioni del vostro template Uteam. Che cosa sono queste sezioni? Non sono nient'altro che diciamo gli elementi che compongono il vostro template e quindi il vostro sito web. Per esempio troviamo quattro sezioni generali, quindi Global, Theme, Inverse e Google Fonts che riguardano il template nella sua interezza. Poi ci sono tutte le sezioni specifiche di ogni elemento, per esempio Accordion, all'interno cliccandoci verranno fuori tutte le impostazioni di colore, dimensioni, bordi eccetera eccetera che riguardano l'Accordion. L'Accordion che cos'è? È un elemento di Uteam Builder che ti permette di aprire e chiudere delle etichette fondamentalmente. Andando avanti ci sarà tutto quanto, tutte le impostazioni degli alert, per esempio i colori, i colori classici sono il blu, il verde, il giallo, il rosso eccetera eccetera. Qui possiamo volendo andarle a customizzare, a modificare. Possiamo andare a modificare lo stile di qualsiasi elemento, per esempio il button, andiamo a vedere se c'è un button. Ecco qua, button Read More. Nella sezione dei bottoni per esempio noi possiamo andare a modificare il font size, quindi la grandezza del carattere. Per esempio mettiamo 20 pixel. Ecco che si aggiornerà la pagina e il nostro pulsante ha cambiato aspetto in base a quello che gli abbiamo detto. Per esempio c'è un letter spacing di 2 pixel, mettiamo 0 pixel in modo che le scritte si avvicino tra loro. Letter spacing è la distanza tra le varie lettere. Ecco che abbiamo un Read More normale, diciamo senza spazi e largo 20 pixel. Per esempio è tutto in maiuscolo, che è gestito da dove? Da qua, da Text Transform Upper Case. Quindi noi possiamo andare a modificare, vedete che viene fuori una tendina, quindi alcune scelte sono semplificate, non dobbiamo fisicamente scrivere Upper Case. Possiamo andarle a scegliere. Tutte queste opzioni qua, per chi conosce CSS, in realtà si ricorda che tipo di comandi sono. C'è appunto letter spacing, font size, font weight, tutte cose che possono essere gestite e decise lato CSS. Bene, lo stile di Uteam ti permette di gestire quei parametri CSS in modo molto semplice, senza effettivamente conoscere il linguaggio CSS. Quindi da qui noi possiamo andare a modificare tutto quello che ci interessa. Come per il Builder, dopo che abbiamo fatto una modifica, in alto a destra viene fuori il pulsante Salva o a sinistra il pulsante Annulla. Annulla, come dicevamo, annulla tutte le modifiche dall'ultimo salvataggio, quindi non annulla semplicemente l'ultima modifica fatta. Se io clicco su Salva, allora le modifiche che abbiamo fatto si applicano, quindi vengono fisicamente salvate e applicate nel nostro template. Una cosa comoda da vedere è che se noi andiamo a modificare delle proprietà rispetto a quelle di default, quelle proprietà vengono segnalate con un puntino alla loro sinistra. Vedete che noi abbiamo modificato font size, abbiamo modificato letter spacing e abbiamo modificato text transform. A sinistra è venuto fuori un puntino. Se noi torniamo indietro, vediamo che questo puntino è venuto fuori anche di fianco a Button. Perché? Perché noi abbiamo modificato dei parametri che sono dentro Button. Se noi andiamo a cliccare su questo puntino, vedete che viene fuori una X, che cosa succede? Si ritorna al valore di default, quindi in questo caso 11 pixel. Rimettiamo 20, perché a me piacciono i pulsanti più grandi. E clicco su Salva. Bene, da qua possiamo andare a modificare tutto quanto. Gli articoli, le card, che sono queste qui, le colonne container, i .nav, che sono i puntini per esempio degli slideshow, le icone. Possiamo andare a modificare qualsiasi aspetto grafico del nostro sito. Le sezioni più importanti dove andare a fare modifiche in generale quali sono? C'è Global, dove si possono settare i colori primari e secondari. Eccoli qua. Primary background e secondary background. Modificando questi settaggi qua, che al momento sono due grigi scuri, addirittura due neri quasi uguali, e mettendone per esempio uno, un blu, e nell'altro mettiamo, andiamo a vedere, un viola, vediamo che andiamo a modificare quelli che sono i colori primari del sito web. Nel senso che, eccolo qua, innanzitutto anche le nostre sezioni, ti ricordate che ad un certo punto nella puntata scorsa dicevamo section primary, section secondary, eccetera, eccetera, vuol dire questa è una sezione il cui sfondo sarà quello del colore primario o del colore secondario, quindi primary background e secondary background. In questo caso qui ecco che si sono aggiornate. Questo qui che però che cosa ha fatto? Visto che noi, come dicevamo, abbiamo utilizzato queste variabili che vanno a prendere il colore principale, eccetera, eccetera, lo vanno a richiamare, diciamo, senza dover fisicamente scrivere colore hashtag FFF, eccetera, eccetera, bene, questi due colori che noi abbiamo scelto in realtà si sono propagati anche nel resto dello stile. Per esempio andiamo in button, che era quello che guardavamo prima, vedremo che il button primary e il button secondary hanno cambiato il loro colore in base ai due colori che ho scelto prima, quindi button primary sarà blu e button secondary sarà viola. Sono questi due colori che ho scelto prima, quindi scegliendoli la prima volta dentro global, bene, questi colori si sono, come dicevamo, propagati in tutto lo stile e tutti gli elementi che prima andavano a prendere il colore primary e il colore secondary si sono adeguati. Hanno quindi cambiato il loro colore in base a quelli che ho scelto io. Questa cosa qua succede dappertutto, per esempio, quindi andiamo a vedere le card, ecco il badge, il default, l'over background è diventato blu, il primary background delle card è blu, il secondary background delle card è viola. Ecco che quindi, come dicevamo, tutti questi colori sono cambiati in base al primary e secondary. La cosa comoda qual è? è che io ho scelto il colore principale, diciamolo, chiamiamolo così, e quindi questo colore lo rivediamo dappertutto. Ma se io voglio andare a modificare un singolo colore di una singola sezione, per esempio delle card secondary, non lo voglio viola, ma lo voglio questo verdino qua, ecco che questo background cambia, ma tutto il resto rimane viola e blu. Eccolo qua, in questo modo è cambiato, ma se noi andiamo a vedere dentro global, qui abbiamo sempre il viola, non è venuto quel verdino lì, perché il primary sarà viola, possiamo però andare a modificare puntualmente alcune determinate cose, il colore che vogliamo. Ho fatto l'esempio col colore perché è più immediato da vedere, ma in realtà nel global si possono andare a modificare un sacco di cose, per esempio si può modificare il font family, il font del vostro sito web. Noi possiamo prendere o i font di sistema, che sono i font classici di internet, che ogni sistema può leggere e può interpretare, quindi il Consolas, Georgia, Elvetica, Lucida, Times New Roman, eccetera eccetera, e che quindi sono font interni al sistema, quindi il computer usa i suoi font, e quindi questi font non vengono caricati da nessun'altra parte, quindi non rallentano il sito nel caricamento. Oppure possiamo andare a prendere tutte le decine, 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 decine di Google Font. Questi Google Font, come vedete andando su e giù, anche le scritte cambiano a seconda del font, vedete che cambiano in base alla loro forma, così noi possiamo anche avere una preview di come sarà il font. Bene, questi font qua vengono caricati dai server di Google, quindi in realtà un pochettino rallentano il sito web sicuramente, ma vi danno un'ampia gamma di font, praticamente infinita, si parla di centinaia e centinaia di font, che potete usare sul vostro sito. Bene, il font che noi settiamo in global, come dicevamo, si propagerà in tutto il resto del sito, quindi anche il font dei caratteri, delle carde, font dei caratteri, dei bottoni, dei titoli, eccetera, tutto quanto verrà deciso da queste impostazioni globali. Altre cose che possono interessarci è, per esempio, nel base possiamo andare a modificare il background del body, possiamo andare a modificare il colore dei link, possiamo andare a modificare la pesantezza del bold, quindi del grassetto, perché possiamo decidere che il bold possa essere bold, black, extra bold, in base, per esempio, ai font di Google che avete scaricato e installato sul sito, in base alla vostra scelta in global. Sempre su Google Fonts, chiudo il discorso, c'è anche la possibilità di andare a scegliere le varianti da scaricare. Come sappiamo, tutti i Google Fonts, adesso andiamo a vedere un Google Font qualsiasi, così vediamo subito come funziona. Ecco, per esempio, un roboto, che viene usato un po' dappertutto, ma è un font molto bello. Ha molti stili, il 100, il 300, il 400, il 500, che è, diciamo, la pesantezza del nostro font, ossia quanto è grande, quanto è spesso. Bene, noi possiamo scegliere di caricare dai server di Google solo una, due o tre di queste pesantezze. Questo perché? Perché se io ne scarico una sola, anziché otto, anche il tempo di caricamento, ovviamente è più veloce. Quindi il mio consiglio qual è? Scegliete i vostri Google Fonts del vostro sito, scegliete qual è la grandezza che vi piace e qui in Google Fonts andate a scaricare solo la grandezza che vi interessa, senza starle a scaricare tutte quanti, perché andreste a consumare banda e dati inutilmente. Bene, questo è tutto, più o meno, quello che riguarda lo stile. Da qua, molto semplicemente, possiamo andare a modificare tutto quello che ci interessa. possiamo anche andare a prendere tutti i nostri preset, che sono i preset che Uteam ti dà di default. Cliccando su Fuse, che cosa succede? Che mi farà vedere tutti i preset possibili, immaginabili, di tutti i loro template, diciamo quelli che hanno creato nel corso del tempo, nel corso degli anni, come combinazioni di colori, del primary, secondary, per esempio della dimensione e della forma dei bottoni. Per esempio, questo qua sono arrotondati e questo qua invece sono quadrati. Il font... quindi possiamo andare, diciamo, a recuperare in modo molto veloce lo stile di un altro template per cercare di ricrearlo sul nostro. La cosa comoda qual è? È che in questo modo qua, per esempio, io posso prendermi il template X di Uteam, perché ha una struttura che mi piace molto, e appiccicargli sopra lo stile del template Y, perché magari ha dei colori che mi piacciono di più. In questo modo riusciamo a creare questi Frankenstein, che in realtà funzionano molto bene, perché ti danno un'infinita rosa di possibilità, perché in questo modo qua io posso prendere qualsiasi struttura di qualsiasi template di Uteam e appiccicarci sopra a un qualsiasi foglio di stile di un qualsiasi template di Uteam. Quindi cliccando, per esempio, su Creative Hub, ecco che noi andiamo a prendere lo stile di quel template lì e lo appiccichiamo, diciamo, al posto dello stile originario del nostro sito. Ecco che adesso andiamo a vedere, appena ricarica la pagina, che è cambiato il font del menu, è cambiato il font di tutto il sito, i colori però sono rimasti. Questo perché? Perché lui che cosa ha fatto? Ha preso lo stile di base, quindi lo stile di default in cui ha tutte le sue grandezze, tutti i suoi colori, eccetera, eccetera, me l'ha messo come base per il mio sito, ma le modifiche che avevo fatto in button, card, global, eccetera, me le ha tenute. Questo è molto comodo perché? Perché se io, per esempio, ho fatto una modifica al button perché lo voglio di grandezza 20 e decido di passare a un altro stile, se io prendo, elimino le mie modifiche e metto ex novo un altro stile, rischio di dover rifare poi da capo tutte le customizzazioni che mi ero fatto con molta calma e con molta pazienza. Quindi diciamo che quando io vado a scegliere un altro stile dall'elenco che mi propone Uteam, ecco che tutte le mie customizzazioni non vengono sovrascritte ma vengono mantenute. Io salvo e in questo modo qua anche il mio frontend a questo punto avrà l'impostazione grafica che ho scelto perché è quella che ho preso dall'elenco che mi ha dato Uteam e l'ho applicata al mio sito web. Questo più o meno è tutto quello che riguarda lo stile. Si può andare a modificare qualsiasi cosa, per esempio questa qui è la navbar che è questa qui, quindi la barra in alto. Come faccio però io a sapere che devo andare a modificare proprio la navbar? Bene, il sistema di stili di Uteam ci dà una mano. Quando io prendo col mouse, lo vedete che mi sposto da una sezione all'altra, quindi dall'headline al testo alla navbar, compare un'etichettina, che la vedete con sfondo bianco, che mi dice per andare a modificare lo stile di questo punto qua devi andare a modificare, per esempio in questo caso, la section. Per andare a modificare questo devi andare a modificare base, grid e text, quindi tutte le impostazioni si trovano qua. Se lo metto qua in alto, ecco che per andare a modificare qui io devo andare a modificare la navbar. Se io voglio modificare questo, posso modificare margin. Questo qui devo andare a modificare countdown. Qui devo andare a modificare position. Qui devo andare a modificare il grid. Ecco, muovendo il mouse sul nostro sito io so che cosa andare a cercare nel nostro foglio di stile che vedo qua per andare a modificare esattamente quello che mi interessa. E questo è molto utile perché non devo stare a cercare qua e là finché non trovo l'impostazione che voglio modificare. Arriviamo ora alla parte di layout. Sulla parte di layout che ci può interessare c'è il footer che avevamo visto l'altra volta che fa parte del builder ma questo footer qua in realtà viene poi preso quindi questo blocco qua viene preso e ricopiato su tutte le pagine del sito quindi io il footer devo e posso farlo una volta soltanto. La parte che mi interessa è il mobile. Quindi in mobile io posso andare a modificare tutto quello che riguarda la visualizzazione mobile quindi posso andare a modificare quando la visualizzazione mobile entra in gioco quindi dal tablet in landscape a più in basso diciamo fondamentalmente. Posso abilitare la posizione della navbar che può essere statico, può scendere, può risalire. Posso scegliere tutte le opzioni dell'off canvas come farlo venire fuori, quando farlo venire fuori, dove mettere il pulsante del menu. Ecco tutte queste parti qua si gestiscono tramite l'etichetta layout mobile. Altre cose che ci possono interessare. Bene da qua noi possiamo andare a modificare anche i moduli del sito. Vedete che qua a sinistra abbiamo moduli. Bene qui ci sarà una lista di tutti i moduli che al momento sono presenti sul nostro sito web. Posso anche creare un nuovo modulo che mi apre un modale dove abbiamo la schermata classica di creazione moduli. Quando voi siete proprio sul pannello di controllo di Joomla e cliccate nuovo modulo vi viene fuori questa cosa qua. Quindi diciamo che è una specie di iframe in cui al suo interno io posso andare a creare dei moduli. Quindi per moduli si intende proprio i moduli di Joomla. Io posso andare a modificare i moduli direttamente dal pannello di controllo di Uteam. Una cosa su cui voglio fare il focus per esempio è il menu. Da un annetto, un paio d'anni in realtà Uteam ti dà la possibilità di creare un mega menu. Che cos'è un mega menu? Sono quelli che vedete sono dei menu particolarmente complessi o ricchi di contenuti. Che cosa vuol dire? Che quando tu metti il mouse sopra una voce non ti si apre semplicemente una tendina con le sottovoci. Ti si apre per esempio una zona particolare dove ci sono delle strutture particolari, dove ci sono delle immagini, dei link, dei video, qualsiasi cosa. Quindi ti permette di costruire un menu tramite il builder. Questo si fa nella sezione menu di Uteam. Abbiamo il menu che è questo qua che vedete qua sopra. E vedete che ogni voce di menu, home, film, chi siamo eccetera, ha di fianco un pulsatino builder. Questo vuol dire che noi possiamo andare a creare la sottovoce della voce che noi stiamo andando a modificare utilizzando il builder di Uteam. Quindi andiamo sulla voce, abbiamo detto film, clicchiamo su builder e clicchiamo su nuovo layout. Ecco che innanzitutto film mi apre una determinata sezione, mi apre qualcosa. Adesso è vuoto perché il builder è vuoto, però possiamo già vedere che qualcosa c'è. Quindi rispetto a prima qualcosa è cambiato. Mi si è creato una sottovoce di menu. Per esempio andiamo a modificare la struttura del layout, lo mettiamo a metà. E a destra mettiamo un headline. Con scritto ultimi film inseriti. E lo mettiamo come div normale. Non voglio che si veda in enorme. E sotto mettiamo per esempio una lista. Usiamo un contenuto dinamico visto che lo sappiamo fare. Quindi lista. Aggiungi voce. Avanzate. Contenuto dinamico. Articoli personalizzati. In questo caso mettiamo film. Come contenuto mettiamo il titolo. E come collegamento mettiamo collegamento che sta per link in inglese che semplicemente cliccando vada a finire dentro la pagina specifica. Mettiamo anche un'icona. Non la mettiamo dinamica. La scegliamo tra le varie icone disponibili. Mettiamo per esempio l'icona della videocamera. Ecco qua. A destra invece, visto che possiamo continuare con il nostro builder, ci mettiamo per esempio un'immagine. E questa immagine selezioniamo. Ne prendiamo una qualsiasi. Eccola qua. Ecco che il nostro mega menu è costruito. Però, c'è un però, nel senso che è particolarmente brutto. Perché è piccolo, si vede male. Allora noi adesso abbiamo la possibilità di andare a modificare l'aspetto del nostro mega menu. All'interno di ogni singola voce io posso andare a modificare, per esempio, delle impostazioni dell'aspetto. Andiamo su film, che è quello che abbiamo modificato adesso. Innanzitutto io posso metterci un'immagine. Che cos'è l'immagine? È un'immagine o un'icona da far vedere di fianco al titolo. In questo caso questa immagine è enorme. Potrebbe avere più senso scegliere, per esempio, un'icona. Scegliamo sempre l'iconcina della fotografia, in questo caso. Ecco che di fianco a film, come vedete, è comparso l'iconcina. Quindi ci permette già di personalizzare un po' anche l'iconcine del menu. Posso decidere di nascondere il titolo. Per esempio, far vedere solo l'icona. In questo caso qua mi rimarrà solo l'iconcina della camera. Posso decidere di mettere un sottotitolo. Tutti i film. Ed ecco che comparirà subito sotto. Posso decidere di andare a modificare la larghezza del mio sottomenu. Quindi drop down stretch nessuno, vuol dire non allargarlo. Oppure drop down width, cioè quanto lo voglio largo. Per esempio 600 pixel. Ecco che mi è diventato largo 600 pixel, quindi c'è già più spazio. 600 pixel forse poco, facciamo 900 pixel, che così abbiamo più spazio per tutto quanto. Eccolo qua. Già va meglio. Posso anche decidere di non mettere una larghezza in pixel, ma di fare uno stretch dinamico. Che cosa vuol dire? Fallo in modo che sia largo come la navbar. Che cosa vuol dire? Che mi viene fuori largo come tutta la mia navbar. Oppure come il navbar container. Che cosa vuol dire navbar container? Vuol dire che è grande come il contenitore del navbar, quindi va oltre la grandezza del navbar, quindi va oltre la grandezza del menu, e va fino a dove ha possibilità di spazio, quindi fino al suo contenitore, al contenitore del navbar. In questo caso a me piace di più che sia ben definito, quindi metto nessuno. Drop down width mettiamo 700 pixel. Eccolo qua. E possiamo andare a modificare, per esempio, altre impostazioni sulla visualizzazione. Per esempio possiamo fare un padding largo, quindi più distanza rispetto ai bordi. Posso decidere di togliere il padding orizzontale. Che cosa vuol dire? Fare in modo che sia attaccato a sinistra e a destra. Vedete che il padding verticale c'è, quindi da sopra e qua sotto c'è. A sinistra e a destra no, infatti va a toccare i bordi. Posso decidere di rimuovere anche il vertical padding. In questo modo qua il padding non c'è, praticamente non esiste. Infatti questa immagine qua ha vato a toccare i bordi dappertutto, mentre invece questi ultimi film inseriti e questa lista non ha padding, quindi vato a toccare i bordi, ma non è in realtà bellissimo da vedere. Posso anche decidere l'allineamento del drop down, che non vuol dire in realtà l'allineamento dei testi all'interno del drop down, vuol dire l'allineamento del blocco. Il default, che è uguale al sinistra, in realtà vuol dire che il mio drop down parte da dove è la mia scritta film, quindi da dove è la mia scritta del menu principale, e poi va verso destra. Se io metto a destra, allora che cosa fa? Che lui parte, si allinea sulla destra e poi va verso sinistra. Qua si vede poco, perché? Perché in realtà lo schermo è piccolino, però se io vado qua, dove ho il mio sito in cui si vede un po' meglio, ecco che vediamo che è quello che ho scelto io. Quindi sostanzialmente il mio drop down è sceso rispetto alla scritta film e si è spostato verso sinistra, quindi allineamento a destra. Posso anche decidere di mettere un allineamento al centro, vuol dire che il mio blocco, il mio sottoblocco, sarà allineato al centro con film. Eccolo qua. Quindi avrò un po' a sinistra e un po' a destra allineato esattamente al centro. Posso cliccare anche modifica voce di menu. Modifica voce di menu ti porta alla voce di menu proprio di Joomla. Questo qui, come vedete, è la gestione di un menu di Joomla, quindi fondamentalmente io posso anche decidere di andare a modificare la voce di menu direttamente da Uteam. Questo perché? Perché in realtà se ho delle modifiche da fare, quindi vedere il numero di articoli da far vedere nella categoria blog, eccetera, eccetera, non devo stare ogni volta a chiudere il builder, vai nel menu, modifica, poi torna nel builder, torna nel layout, eccetera, eccetera. Io posso modificare direttamente tutto da qui senza stare ad aprire 8 tab o senza dover entrare e uscire tutte le volte dal mio builder. Bene, in questo modo qua io ho la possibilità di creare il mio mega menu e fare in modo che sia, per esempio, diverso per ognuno dei... per ognuno delle voci di menu. Per esempio, contatti. Possiamo fare un nuovo layout. Possiamo fare anche una cosa del genere, sempre diviso a metà in cui a sinistra mettiamo info-pixel.it 0,51, 1,2,3, 4,5,6 e... www.pixel.it E a destra ci mettiamo, per esempio, una mappa. Mettiamo una mappa. Allora, quindi, prendiamo e aggiungiamo la mappa qua. Eccolo qua. Non mi piace perché è troppo piccolo, quindi andiamo a modificare il contatti. Andiamo a fare in modo che sia 700 di pixel e rimuoviamo il padding. Così, per bellezza. Ecco che contatti sarà una scritta molto semplice e una mappa già direttamente qua all'interno del mio mega menu. Ecco, in questo modo qua io posso andare a modificare e creare quello che voglio. Io salvo. Me lo aggiorno. Ed ecco che film sarà così e contatti sarà così. Come potete vedere abbiamo creato un mega menu che sarà visibile ovviamente solo da desktop, nel senso che il mega menu non c'è di per sé nel mobile, che serve per dare, per esempio, più informazioni agli utenti direttamente dal menu senza che ci sia il bisogno che clicchino da qualche parte. Bene, chiudendo la questione del menu possiamo per esempio andare a vedere qualcosa di più specifico nelle impostazioni. Nelle impostazioni possiamo mettere la favicon. C'è la possibilità di metterne tre. La favicon normale in PNG che deve essere 96x96. La favicon è quella che vedete qua in alto, quella di fianco al nome del sito. Di default c'è sempre quella di Joomla. Se non mettete una favicon verrà fuori questa. Se mettete qualcosa verrà fuori l'immaginina che scegliete voi. Quindi la favicon PNG 96x96 è quella base. Si può mettere, anzi si dovrebbe mettere anche una favicon SVG. SVG sono le immagini vettoriali. Perché mettere una favicon SVG? Perché adesso, per esempio, i siti web possono essere visti da qualsiasi tipo di device. Anche per esempio una televisione. Mettere una favicon SVG, quindi vettoriale, ti permette di vedere questa favicon anche se è allargata, anche se è ristretta, anche se è vista una tv in super 4, 8, 12K, di non vederla mai sgranata. L'ultima favicon che si può inserire è la Icona Touch, quindi è dell'Apple Touch Icon che è invece 180x180 pixel. C'è la possibilità di mettere il cookie banner. Il cookie banner è un cookie banner molto basico, quindi io in genere non lo utilizzo mai perché non ti fa l'opt-out, non ti dà la possibilità di bloccare preventivamente gli script, quindi è super basico. Giusto può essere utile per dire in questo sito web utilizziamo un Google Analytics anonimizzato oppure in questo sito web utilizziamo i dati in modo privato, ma in realtà non è un vero e proprio banner conforme al GDPR, bisogna che studiate un po' la vostra situazione. La chiave API di Uteam, questa qui è quella che dicevamo nelle altre puntate, se è una chiave che va inserita all'interno di Uteam che vi permette di avere per esempio gli aggiornamenti automatici oppure vi permette di andare a prendere i Pro Layout che abbiamo visto nella puntata scorsa, quindi quelle strutture già preimpostate che Uteam ti dà a disposizione, ma per farlo appunto c'è bisogno di questa API Key. Nelle avanzate c'è una funzionalità molto molto utile e molto importante che è quella del tema figlio. Che cos'è il tema figlio? Allora, di Joomla in realtà di tema figlio se ne è parlato poco fino a qualche mese fa quando con la nuova versione di Joomla sono stati introdotti inattivamente i temi figlio, quindi la possibilità di creare un figlio di un tema già installato sul sito. Prima che te lo facesse fare Joomla in realtà era complicato andare a fare modifiche ai file, bisognava fare degli accrocchi, detta proprio come va detta. Piccola parentesi, che cos'è un tema figlio? quando tu hai un template, questo template contiene dei file il cui principale è index.php poi ci sono degli altri file che sono i file che servono per il funzionamento del template. Bene, se tu volessi andare a modificare alcuni di quei file, per esempio l'index.php andandoci a mettere qualcosa dentro l'head, mettendo il codice di Google Analytics nel led dentro l'index.php senza stare a utilizzare dei plugin, ne si può fare, io faccio sempre così perché è più veloce. Bene, qual è il problema? Che se tu vai a modificare quell'index.php e poi il giorno dopo vai ad aggiornare Uteam Pro o un qualsiasi componente, che cosa succede? Che le tue modifiche vengono sovrascritte perché quando tu installi un componente lui ti ricopia dentro tutti i file della nuova versione. Quindi se tu hai modificato un file, tarangi, le tue modifiche vengono perse. Quindi Uteam aveva messo in piedi questo sistema del tema figlio che ti permette di andare a modificare singoli file del tuo template senza avere il rischio che fossero sovrascritte ogni volta che veniva aggiornato il template. Come si fa a gestire un tema figlio di Uteam? Molto semplice, si va in avanzate, in questo caso mi dice nessuno, perché? Perché il tema figlio va creato prima della selezione, ovviamente, quindi io devo creare un child template, una cartella in realtà, nella root della cartella template del mio sito. È più facile a farsi che a dirsi. Quindi noi andiamo in C2 punti, andiamo in XAMPP e andiamo in HTDOCS e poi Joomla4. Ecco, questa è la root del mio sito web, del mio sito Joomla4. Io ci sono arrivato da C2 punti perché sto lavorando in locale, su XAMPP. Se state lavorando online, probabilmente vi dovrete collegare con un client tipo FileZilla. finirete in una cartella del vostro utente, dentro ci sarà una cartella Public HTML, di solito dentro la Public HTML trovate la root del vostro sito. Bene, una volta che siete qui dovete andare nella cartella Templates. Ecco qui, vedete che ci sarà una cartella che è la cartella del template Uteam, dove dentro ci sono tutti i file del template. Bene, di fianco a questa cartella bisogna creare una nuova cartella chiamata in un modo un po' specifico. Bisogna chiamarla Uteam underscore e il nome del template figlio. Può essere una qualsiasi cosa che scegliete voi, può essere child, può essere figlio, può essere pippo, quello che volete. Scegliamo per esempio Uteam Topolino. Io ho semplicemente creato una cartella di fianco a Uteam e questa cartella è vuota, ok? Nulla di più, nulla di meno. Se io chiudo e riapro il mio builder, quindi chiudo, clicco di nuovo su Uteam, lo riapro, vado in impostazioni, vado in avanzate, ecco che tema figlio oltre a nessuno adesso ci sarà Topolino. Topolino è questa cartella qua, Uteam underscore Topolino. Lo selezione salvo in realtà non succede niente, perché? Perché in realtà Topolino è vuoto, cioè dentro Topolino in realtà non c'è nulla. Come funziona? Bisogna andare a prendere il file che io voglio modificare, in questo caso voglio andare a modificare Index.php che è la pagina principale, quindi io me lo prendo, me lo copio, lo vado a incollare dentro Uteam Topolino ed ecco che il sistema in automatico quando carica una pagina con il template Uteam va prima a vedere dentro Uteam Topolino vede che c'è un file che è Index.php e allora a quel punto che cosa fa? Mi caricherà questo file Index.php al posto di questo file qua che è quello di default. Quindi io questo file di default potrei prenderlo eccolo qua no non lo voglio salvare lo cancello tutto quanto e lo chiudo quindi questo Index.php adesso è vuoto in teoria non dovrebbe funzionare il mio template però se io aggiorno il sito ecco che tutto funziona ancora questo perché? Perché noi abbiamo detto di utilizzare Uteam Topolino dentro c'è un file Index.php e quindi il sistema mi carica questo invece di questo qua di default che è vuoto e quindi non funzionerebbe. Io qui posso andare a modificare che cosa? Quello che mi pare. Posso andare a prendere per esempio il body subito dopo il body scrivo ciao ciao così è giusto per avere un'idea di fare delle modifiche che si possono fare io aggiorno ed ecco che mi viene fuori ciao ciao questa è la dimostrazione che il sistema sta leggendo l'Index.php dentro Uteam Topolino perché è utile questa cosa? Non solo per scrivere ciao ciao dentro l'HTML che è sempre cosa giusta ma se voi dovete aggiungere degli script nel vostro HTML quindi gli script di Google Analytics gli script di qualsiasi altra cosa il banner di Ubenda il banner di Cookie Bot eccetera eccetera potete prenderli e copiarli e incollarli direttamente nel LED qua dentro salvare e aggiornare in questo caso non si vedrà nulla si vedrà ASDASDAS anche se in realtà l'abbiamo scritto nel LED e in questo modo qua verranno sempre caricati caricati direttamente dall'Index.php e se io adesso domani vado ad aggiornare Uteam e quindi sovrascrivo i file che sono non dentro Uteam Topolino ma dentro Uteam normale e quindi l'Index.php mi ritorna quello di default di base a me non interessa niente perché tanto questi file vengono ignorati bisogna solo fare attenzione a un'unica cosa quando c'è un passaggio di major version quindi dalla 3 alla 4 dalla 2 alla 3 oppure quando ci sono delle modifiche importanti su Uteam in genere questa cosa qua viene scritta nelle release note quindi quando installate una release che sia una versione magari non major version ma anche una da 3.2 a 3.3 leggete le release note e vedete se è necessario modificare anche l'Index.php questo perché esempio banale avevo fatto il child di un template di un sito nella versione Uteam 2 quindi di un paio di anni fa ho ripreso in mano questo sito lo sono andato ad aggiornare ho aggiornato Uteam tutto funziona zero problemi nell'aggiornamento però che cosa era successo che avendo il template figlio con l'Index.php vecchio in realtà Uteam nuovo funzionava ma funzionava con l'Index.php vecchio quindi con l'Index.php di una versione precedente in genere funziona comunque tutto nel senso che queste release non sono distruttive o non retrocompatibili funzionava ma c'erano delle piccole cose che non mi convincevano per esempio la header aveva i colori sbagliati o c'erano dei dettagli su alcuni font che non andavano bene quindi vuoldeva dire che c'era qualcosa che non andava bene ho risolto cancellando quello che avevo nel mio nel mio template figlio e rimettendoci dentro un Index.php aggiornato della versione corretta ovviamente dopo essermi salvato le modifiche custom che avevo fatto all'Index.php e riprendendolo da lì si può fare per qualsiasi file io in genere lo faccio solo per l'Index.php perché è poi quello che mi interessa però nulla vi impedisce di andare a fare e di andare a copiare nel template figlio qualsiasi altro di questi file che trovate dentro la cartella template bene andiamo a vedere un'altra feature che può essere interessante sempre in avanzate dove abbiamo parlato del tema figlio abbiamo la possibilità anche di decidere di caricare Bootstrap o meno Bootstrap è un framework che ti permette di visualizzare i contenuti di Joomla in un modo strutturato però ecco Bootstrap viene utilizzato da Joomla se utilizzi per esempio un template con Bootstrap come per esempio Cassiopeia non utilizzando Cassiopeia ma Uteam non ci interessa che tutto il framework Bootstrap venga caricato quindi noi possiamo decidere di non caricarlo quando viene richiamata una pagina del sito web in questo modo che cosa succede? che il caricamento è più veloce perché devo caricare meno risorse però attenzione se per esempio utilizziamo alcuni feature nativi di Joomla anche dentro Uteam per esempio la modifica da frontend degli articoli o l'invio degli articoli da frontend che viene utilizzato proprio la struttura di Joomla allora in quel caso è necessario e consigliato caricare anche Bootstrap ho la possibilità di fare in modo che tutte le immagini del mio sito vengano trasformate automaticamente in WebP posso decidere se caricare o meno jQuery ecco per esempio di default è disabilitato in questo modo qui jQuery non viene caricato perché non mi serve nel senso che in Uteam base non mi serve che ci sia anche jQuery e quindi il caricamento della pagina molto semplicemente è più veloce un'ultima cosa che voglio farvi vedere riguarda gli stili c'è la possibilità di creare più stili di Uteam che cosa vuol dire se noi andiamo in sistema e andiamo in stili template sito vediamo che ne abbiamo uno di predefinito che è quello che viene installato quando io installo Uteam la prima volta avrò un solo stile che se ci clicco sopra mi viene fuori il classico pulsantone di Uteam Customize che io clicco e mi ritorno alla pagina del controllo di Uteam ossia questa qua ma nulla mi impedisce di creare un altro stile che cosa vuol dire vuol dire la possibilità di andare a modificare determinate cose determinate impostazioni del mio Uteam a seconda delle pagine del sito web per esempio come si fa anche in questo caso è più facile farlo che a dirlo quindi lo selezioniamo clicchiamo su Duplica anziché predefinito 2 lo mettiamo per esempio solo Homepage e in assegnazione menu diciamo fa in modo che questo stile venga caricato quando sono in Homepage quando non sono in Homepage quindi vedete qua che adesso è Uteam solo Homepage assegnato a una pagina quando non sono in Homepage che cosa fai? Caricami il predefinito in questo caso qua che è Uteam predefinito che si chiama appunto che ha la stellina e in pagina è predefinito per tutte le pagine questo vuol dire che io ho due stili in questo momento qua ho quello predefinito che mi carica sempre e comunque se serve oppure quello dell'Homepage che carica solo se sono nella determinata pagina per pagina intendo voci di menu quindi io non posso selezionare questo template per l'articolo X io posso selezionare questo template per la voce di menu X in questo caso per Homepage bene fatta questa cosa qua che cosa mi cambia? mi cambia che se io clicco su solo Homepage e poi clicco su Customize io posso andare a modificare per esempio lo stile il global i vari background quindi non voglio più il blu ma prendiamo per esempio un rosso e non voglio più il il viola prendiamo per esempio una specie di prendiamo un azzurro salvo salvo e qui aggiorno ed ecco che in Homepage i miei due colori principali saranno cambiati saranno il rosso e l'azzurro andiamo nella pagina film e vediamo che invece i colori qua sono diversi sono il blu e il rosa che sono i due colori dell'altro stile bene in questo modo qua noi abbiamo la possibilità di scegliere stili diverse per pagine diverse tutto è duplicato quindi io ho la possibilità proprio di andare a modificare nel dettaglio determinate cose in determinate pagine anche qui bisogna fare attenzione che io adesso prendo questa Uteam solo Homepage se clicco su Customize vedete che in alto mi viene scritto Template Style 13 che è l'ID del mio stile se io vado in una pagina però film per esempio vedete che in alto mi rimane comunque Template Style 13 vuol dire che in realtà io sono in una pagina dove questo stile non è applicato ma io sto comunque modificando lo stile della Homepage questa cosa qui è un bug dal mio punto di vista lo dico proprio molto sinceramente l'ho già fatto notare al team di Uteam ha detto che guarderanno la questione perché non ha senso se io vado nella pagina B dove è applicato lo stile X allora io voglio che lo stile che modifico nella pagina B sia lo stile X non che sia lo stile Y perché io ho cliccato su Customize dello stile Y si crea della gran confusione se queste cose non vengono modificate in automatico ecco che quindi sì potete tranquillamente avere tutti gli stili che volete però attenzione quando passate da una pagina all'altra controllate sempre di star modificando lo stile giusto se no alla fine si va a fare del gran casino io direi che ho detto tutto sicuramente ci sono una marea di altre cose da dire ma queste sono le più importanti e sono quelle che utilizzo più spesso per il resto vi rimando al mio sito web perché nella sezione corsi troverete un corso di 8 ore specifico per Uteam dove posseremo parlare faccia a faccia o dal vivo oppure online di Uteam di quindi di come funziona di come strutturarlo al meglio faremo degli esempi possiamo anche lavorare su dei vostri progetti quindi potete presentarvi al corso col vostro sito web fatto con Uteam e possiamo lavorare direttamente di sopra tanto per me lavorare su un sito di test o su un sito vero e proprio non cambia niente anzi meglio che lavorare sul materiale che già esiste così possiamo toccare con mano tutto quanto per il resto direi che abbiamo completato la carrellata quindi vi ringrazio se vi è interessato vi chiedo di mettere un like di iscrivervi al canale così appena uscirà un nuovo video youtube ve lo notificherà subito e potrete correre ad ascoltare a leggere una nuova pillola su come funziona il magico mondo di Joomla bene grazie mille buon lavoro alla prossima grazie mille